Chiyo 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 Proviamo anche un po' Così Questa terra che rientra tantissimo in mezzo c'è il mare Dov'è qui? C'è un fiordo Vedete? Ok 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 Chiyo 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 qui come oggi oggi voglio fare un video diciamo così, dedicato a dei trigger che hanno tutto il comune il fatto di avere almeno una parte di visual trigger quindi che in parte siano rilassanti perché hanno dei movimenti particolari quindi siano rilassanti a livello visivo e non solo uditi e quindi questo video sarà principalmente diviso in tre 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 parti la prima sarà questa qui in cui mi vedete in viso la seconda ci saranno ci sarà questo visual trigger così che mi è stato suggerito da una persona che mi segue su Instagram perdonami non mi ricordo il nome ma mi è suggerito questo trigger questo trigger poi così e poi così e poi così l'ho provato in live sulla piattaforma viola ed è piaciuto molto quindi volevo portarlo sul canale se trovo il messaggio e la reference del canale da cui questa persona l'ha visto ve lo linko qui sotto perché era veramente bello quel video e poi penso di fare un paio insomma di visual trigger in questa parte come vedete e poi che sarà una parte di una parte di una parte rivista tipo in cui leggo la rivista e la sfoglio eccetera e una parte di invece folding clothes ci ho provato quindi quindi tre trigger molto particolari perché non volevo dedicare a un video intero ma li volevo inserire con questi video cominciamo subito non so se vediate la mia assistente veramente no adesso l'avete sentita guardiamo ecco eccola la la mia patata questo è il musino quindi cercheremo di far rilassare anche lei la mia patata si è il mio patatuna lo sei 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 quindi cominciamo da questo che non so assolutamente come si chiami qui e verso di te e cute e cute e cute e cute 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 e altro e questo e questo e questo e questo prendo e la chandarra è prendo e prendo e prendo la chandarra prendo e la chandarra la chandarra è prendo prendo e la chandarra il nuovo prendo e la prendo e riporto il prendo è un braccio e riporto il prendo e riporto il prendo e riporto il prendo e riporto il prendo com'era? magari dopo la rifacciamo adesso Anzi, ho rifatto ancora un paio di volte Poi mi fanno male le braccia Non ho guardato bene il video da cui prendo questo trigger Quindi non so se dicesse qualcosa nel frattempo Ci fosse un suono particolare abbinato Non ne ho idea, mi dispiace E ripeto, se sapete chi ha inventato questo trigger Chi ha proposto la prima Scrivetelo nei commenti Quindi mi piacerebbe appunto dare credito Anche perché sicuramente lo facevo meglio di oggi E' brando, brando, brando e brando e brando e via E via, eccoci qui Proviamo anche un po' Così Io mi vi soltri che le trovo che siano Estremamente sottovalutati Però li ho sempre Sempre amati Ok Se vi piace magari lo proporrò ancora in altri video Un altro video Chissà se qualcuno si ricorda questo trigger Chissà se qualcuno si ricorda questa puntata di Grey's Anatomy Ed è questo Bene Detemi davvero cosa ne pensate E quale parte vi piace di più E quale parte vi piace di più Volevo Volevo semplicemente accontentare alcune richieste che ho ricevuto Riguardanti Riguardanti il Appunto rifare un video in cui sfogliavo Delle riviste di viaggio Come facevo all'inizio Inizio, 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 inizio Del canale Chi se lo ricorda Ma proprio Veramente Mi mostravo il viso Quando sfogliavo le riviste Della Sardegna A casa dei miei Beh Chi c'è da quei tempi Davvero grazie di cuore Non so Non so cosa dire Wow Grazie Per chi non ci fosse Insomma comunque Facevo questa tipologia di video E oggi andremo a Spogliare un pochino Questa rivista Che è Bella Europa Mia madre ha un sacco di Erano tutte le riviste di mia madre Mia madre ha un sacco di Bella Europa Prima li riprendeva sempre Quindi E Europa Isole greche Baros Regina Delle cicla Di Austria Danimarca Francia Landa Svizzera Andiamo a vedere Ho già visto quello che voglio farvi Che voglio mostrare Comunque per chi fosse interessato Al 13 Al 15 Maggio Al Teatro San Carlo di Napoli C'è Marina Bravvici Questa è un'altra Questa è un'altra E la prima che vi voglio far vedere Questa Quest'articolo Solle Isole Faroe Non ci sono mai stata Personalmente C'è stata una mia amica E le sono piaciute Tantissimo Anche secondo me C'è un po' Un piatto appunto Come dice anche qui Un po' fuori dal tempo Le Faroe Sono uno scampolo D'Europa Però sono L'Atlantico Fra la Scozia L'Islanda E raccontiamo Con il rapporto Un piatto molto speciale Quello è il nostro fotografo Che è partito Dall'Italia Un minicaro Ma con la famiglia Animata in Danimarca E da lì Della serie di traversate Raggiunto questo arcipele Con dove la vita Segue i ritmi La natura Ancora più cordiale Avventura Sulla Isola Estrema Ok E qui vediamo appunto Il fiordo Di Funnenkur Tipo Lembi di terra Unche Di mare Con attorno La terra Non l'ho spiegato Per niente bene Non so se qui ci sia Una mappa Tipo Ecco Tipo Questo È un fiordo Vedete Quindi Questa terra Che rientra tantissimo In mezzo C'è il mare Dov'è qui C'è un fiordo Vedete Fondamentalmente Sì È come se voi Vedete il mare Ma vedete anche L'altra parte Sono molto belli Dopo che non vi siete visti Tu li avete visti tutti Però Sono belli Allora qui Abbiamo qui Si vede che sono sotto La talimarca Ok A sinistra Dall'altro Su isola di Cansoi Emma Carassal La figlia degli autori Di quest'articolo È stata fotografata Accanto alla stadia Di Copacunan La leggendaria figura Di donna foca Poi Figura di donna Ci si prepara Trascornata Nel minicar Fanno usata La famiglia Carassale Che Bello Illuminata La sera E poi qui Deliziosa chiesa Di Sant'Avacur Sull'isola di Vagard Degna Di una visita Ma che bello Invece qui In senatura Che si apre Di fronte A Kjof Il villaggio Abitato da Meno di 50 Da meno di 50 Persone Situato All'esterno La sentenza Nale Dell'isola Di Eisturoi Abbiamo due cameriere Questo è Saxon Sull'isola di Straymoy Straymoy E' uno dei luoghi Più affascinati Delle faro E' il villaggio Composto Da mangiata di case Della chiesa E dalla fattoria Che ospita Un museo di storia Con la bassa parea Si passeggia Lunga lì Tra le sabbe E sulla laguna Invece Qui ci sono Le case Di Kjof Qui ci sono Di cavalli Qui ci sono Le pulcinelle Di mare E poi Bellissime Queste Case Con i tetti Di erba E' pazzesco E' bellissimo E qui Il via Bessaxon Lo sosta Al caffè Panamidito Ci sono Ma che bello Questa è la scogliera Di Traeli Liban Del limite Il lago Di Leitzpatra E qui Si trova La cascata Di Voldas Fossur Comunque La lingua Assomiglia Assomiglia Sanco Giustamente Vicino all'Islanda A tutti i nomi Islandesi Perché anche Cioè qui si chiama Fossur Cioè quelli che finiscono con Fossur Immagino siano cascate In Islanderà Foss Selfoss Gulfoss Eccetera Mi fa venire un po' di nostalgia Devono essere veramente stupende Sostarib Sostarib La città più antica della Danimarca Nella foto La cascata Di Mula Foss Qui Non so se Quella luce Riesce Da vederla Questa è la cascata Posso far vedere E qui c'è la mappa Allora abbiamo Tutte queste isole Calzoi Pagar Comunque qui deve essere proprio Spettacolare anche farle In appunto camper O furgoncino O in auto Perché Hai molta flessibilità In base anche In base anche Al tempo E E poi risparmi tanto Perché queste isole Per notare costa Tutta estate Infatti In camper Nell'isole più grande È garantita La presenza di camping Il campeggio Con sosta notturna È consentito solamente Nelle aree Destinate a quest'uso Il campeggio libro Quindi È vietato Quello che so È che ad esempio Invece In Norvegia Il campeggio Si può fare Ovunque Quindi Uno dei miei viaggi Proprio dei sogni È andare in Norvegia In auto E poi Campeggiare E fare tutta la Norvegia In auto Solo che ci vuole Tantissimo Anche solo per andare in Norvegia In auto Però deve essere una cosa Incredibile Dovresti prenderti Almeno un mese Almeno E Un po' di consigli Fini di castello In un contantubbio Un po' di tracing Un possibul Un po' disil Ch health Un po' di Un po' di Un po' di Un po' di a un'ora da Vienna e poi volevo far vedere questo perché siamo andati a nord adesso andiamo un pochino a sud dell'Europa mi manca da matti la Grecia l'ho sempre amato ho sempre amato proprio le vibes greche e ci sono stata tre volte a Cosa Zante e a Schiatos e Skopalos con mio marito e mai stata né a Paros né a Nassos adesso però sono sulla mia lista altro viaggio dei sogni faremo al Gavella tutte molte isole greche ho troppi viaggi dei sogni come capirete? il meglio del ciclati in un isola casette imbiancate calci c'è spiagge spiagge di sabbia ma anche viaggi rurali da esplorare un pizzico di montanità Paros l'isola del Marmo richiede l'essenza dell'arcipela l'isola del Gavegeo a tre ore di traghetto tattine questo comunque è l'Aleandro's Cafe a Nassos gli ex magazzini pescatori sono stati trasformati in locali alla moto a patate sul mare ecco questa cosa non mi fa impazzire cioè secondo me l'isola è bellissima ma ci andrei tipo a giugno non luglio agosto che meraviglia nella foto nell'idro al mondo dal monastero di Aci a Anargeri sulla colina sovrappare Pareoichia sullo sfondo il capoluogo con le spiagge di Lividi e Crios a destra dall'altro dall'altro la sala del museo archeologico e poi il mausoleo del poeta archilogo nativo di Paros e poi qui nella foto il porticciolo veneziano di Nausa particolarmente animato la sera sotto la spiaggia di Colimbi Dress sul lato potterla paia rispetto a Nausa è formata da pesce naturale per l'acqua e basta limpida molto bello e qui dà appunto dei consigli e poi andiamo a sfogliare un pochino anche malta senza soffermarci qui c'è una scogliera 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 sta pronto sul mare di tefili ci fiera e sulla costa ovest di Cozzo praticamente Malta è molto bella se non ci siete mai stati quindi io ci sono stata a ottobre inizio ottobre e si va fine settembre inizio ottobre secondo me è un periodo molto bello per andarci perché vi evitate il turismo di massa e qui infatti c'è una una mappa e c'è Cozzo vedete poi c'è Comino che è piccolina dove si trova il più lagoon quella più famosa e poi qui c'è Malta quindi sono tre solette infatti qui c'è Valletta a capitare Medina invece è una cosa mi sono innamorata di Medina mi ricordo ancora tantissimo una cena che abbiamo fatto lì in un posto stupendo Medina praticamente è una città medievale ed è forse la più bella che abbiamo visto fino ad ora molto bella poi lì si mangia molto bene un cavalluccio marino questo è un allenamento di tanni in cui si può fare anche immersioni anche no secondo me però è quello che vuole bello ecco non abbiamo fatto immersione qui c'è una medusa luminosa questa è invece una rondine di mare ok adesso sfogliamolo però posso dire un po' di proprio sfogliare in un po' di più è comunque che un po' di più è quello che ha fatto oddio che amori c'è un ghiacciaio qui guardiamo la scusazione sul ghiacciaio della let's bello il meglio dello Svizzerno un liquidino con 31 Svizzerno bellissimo spero vi sia piaciuta questa parte di video volevo appunto come dire tornare un pochino alle origini ma non so se ciò che avessi dedicato un video solo a questo nessuno l'avrà più guardato perché non ispira e per realtà è una delle cose più lassanti però adesso passiamo al folding clothes ho preso delle maglie un po' a caso soppiato e non sono neanche la regina del piegare quindi ci provo però so che a molte persone passa tanto questo trigger quindi provo a farlo vedete non so molto piegarlo però questo è ecco 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 anche lo sfondo lo so non è il massimo c'è proprio le coperte veramente sapeste quanto è difficile fare un'incuratura così mi perdonereste bene partiamo vuoi come piegate le maglie? io come vedete non ho troppa esperienza a riguardo questa è la macchina questo è un top e vabbè questo è ok abbiamo poi questo vestito che voi non vedete ok questo direi che non so se piegare prima la gonna no, proviamo così piego la manica in modo che sia anche tutto il retto con la gonna questo è vellutino quindi sto tirando la stagione ok qui ho piegato la manica non potrei piegare la manica un pochino meno in questo modo un po' piego no, un po' e piego e piego un pochino dentro cosa dite? è accettabile? mi piace il genere sarebbe da girare con qualcuno che ti filma magari arriverò con qualcuno che dice filmarmi solo che filmare questo è abbastanza no io lo penso vabbè comunque lo giro questa è la sua piegare meglio allora questa parte non piega anche meno meglio ok ok questa è andata bene questi pantaloni che non vedete in totale ok che non vedete in totale allora poi poi così poi così poi così ultimo cavo pantaloni della felpa anche questi direi che come prima cosa sovrapponiamo le due parti però bene però bene più o meno non penso che non penso che mi riprenderò mai più da una dischina che mi è venuta girando questa parte di video quindi spero dopo che vi sia piaciuta la molto breve e magari riuscirò a rifarla meglio mi dispiace che non è venuta come volevo però è veramente è veramente molto 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 più difficile di quanto possiate immaginare però sicuro e visto che stiamo facendo un video sui visual trigger direi che posso darvi la parola così è un inquadratore che mi piace tantissimo io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio se assunta l'ora di 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 e qui qui? a-pa-sa-ra le-lu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti e augurarvi augurarvi, augurarvi, augurarete una buona, buona, buona notte sanitaro sanitaro good, 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 good night sweet dreams buona notte buonuitt dei miei piccoli cannoli siciliani un pazzone che li spera